Ciao a tutti, qua è Jacopo per Spazio Hightech. Dopo averli visti entrambi a Berlino, li abbiamo finalmente tra le nostre mani. Sto parlando di Moto 360, seconda generazione, e Huawei Watch. Li abbiamo qui in versione da 42 mm da uomo, nera per Moto 360, versione classic con cinturino in pelle e cassa in colorazione acciaio per quanto riguarda il Huawei Watch. Sono entrambi con un display da 42 mm ed è molto simile anche lo spessore 11.4 mm per il Motorola e 11.3 per il dispositivo di Huawei. La prima differenza che salta all'occhio però guardando questi due dispositivi insieme, oltre a ovviamente il design, è il display. Il display è con tecnologia IPS LCD sul Motorola e ha una risoluzione di 360x325. Huawei Watch invece ha una risoluzione di 400x400, ovviamente se il display fosse quadrato. E senza dubbio Huawei Watch vince per quanto riguarda nitidezza del display, perché abbiamo alla fine 286 ppi contro i 263 del Motorola, ma anche per la tecnologia. Adesso qui non vedrete molto bene perché purtroppo gli AMOLED fanno questo effetto in camera. Però la tecnologia AMOLED secondo me è senza dubbio più adeguata a un orologio come questo rispetto a quelle LCD. Perché, beh, non tanto per come si vede, perché alla fine sono degli ottimi display entrambi, però quando andiamo a mettere l'orologio in instant by e teniamo attiva la modalità always on, su un display AMOLED come quello del Huawei Watch rimangono accesi solamente i pixel che vedete qui rappresentare le lancette e gli indicatori dell'ora. Il resto è completamente spento. Il Motorola invece accende tutto quanto il display, dato che si tratta di un pannello retroilluminato, e appunto emette una luce molto molto bassa che ci permette di vederlo senza particolari problemi, però consuma senza dubbio più batteria e ha degli angoli di visione inferiori, nettamente inferiori ad un display AMOLED. Quindi due buoni display senza dubbio, però preferiamo la tecnologia AMOLED su questi dispositivi e mi auguro che Motorola, quantomeno per la terza generazione del Moto 360, tenga in considerazione questa caratteristica. Lato dal punto di vista estetico abbiamo una cassa in acciaio inossidabile per entrambi i modelli, con un retro in Gorilla Glass per il Motorola e ancora acciaio inossidabile per il Huawei Watch. Sul retro è possibile notare i sensori per il rilevamento del battito cardiaco e sul Huawei Watch i pin per la ricarica. Sul Motorola non sono presenti perché la ricarica sul Moto 360 sia di prima che di seconda generazione avviene tramite wireless. È fornito in confezione un adattatore che troverete in foto nella recensione del Moto 360 dove basta semplicemente appoggiare l'orologio per farlo ricaricare. Nulla di trascendentale insomma. Entrambi i sistemi sono comunque molto molto comodi. Davanti invece abbiamo sempre un Gorilla Glass 3 sul Motorola, mentre novità un vetro in zaffiro per il Huawei Watch. Ora li possediamo da qualche giorno. Io ho il Moto 360 e Daniele ha il Huawei Watch. Non abbiamo provato dei test di resistenza del display perché forse non è la cosa migliore da fare, però sarà sicuramente interessante vedere con il tempo come si comporta il vetro in zaffiro del Huawei Watch. La batteria è su entrambi i modelli da 300 mAh. L'autonomia però è differente. Come detto nella recensione, con Moto 360 la giornata intera si fa senza problemi, anche con uso intenso. Magari si arriva con qualche percentuale di batteria residua al giorno dopo, però è necessario ricaricarlo. Con il Huawei Watch invece arriviamo a sera con sicuramente una percentuale di batteria superiore rispetto al Moto 360 e con uso blando questo ci permette di poter arrivare anche a due giorni di autonomia qui sul Huawei Watch. È molto semplice controllare l'autonomia residua, basta tirar giù la tendina delle notifiche. Qui ovviamente adesso questi valori non sono particolarmente indicativi visto che non sono stati usati nelle stesse condizioni, però più o meno il discorso dell'autonomia è questo. Ovviamente parliamo di autonomia con tutto quanto attivo, quindi attivo sia la modalità always on per entrambi, sia le funzioni di fitness, se vogliamo chiamarle così. Sul Motorola è presente Moto Body. Sul Huawei Watch sono presenti queste due applicazioni, una per la frequenza cardiaca e una monitor quotidiano, questa qui che riprende più o meno quello che Moto Body fa in un'unica schermata. Ci vengono mostrati i passi, le calorie bruciate per l'attività e l'ora di attività fisica, in questo caso di di passeggio. Qui poi abbiamo tutte le altre attività fatte. Su Motorola appunto qui abbiamo invece i passi, calorie bruciate per l'attività fisica e non solo, anche quelle bruciate a riposo. Quindi le valute entrambe sulla base delle informazioni che noi gli diamo quando lo accendiamo per la prima volta, sul nostro corpo. La stessa cosa ovviamente ce la chiede anche il Huawei Watch. Le caratteristiche tecniche sono identiche, Snapdragon 400 per entrambi, con 512 MB di memoria RAM e 4 GB di memoria interna. Le prestazioni quindi sono analoghe. In realtà forse vedendolo così nel video sembrerà che il Huawei Watch è leggermente leggermente più scattante e forse è così. Dopo un uso di qualche minuto, quando gli orologi cominciano un pochino a scaldare, lo si sente su entrambi, le prestazioni del Huawei Watch rimangono stabili, il Moto 360 invece comincia a perdere qualche frame. Però nulla di particolare. Sono comunque due orologi che si riescono a usare perfettamente durante tutta quanta la nostra giornata e fanno aggreggiamente il loro lavoro. Cioè quello di mostrarci le notifiche, di permetterci appunto di vedere le notifiche senza dover tirare fuori il telefono e poi farci tenere d'occhio l'ora, ovviamente, e poi con qualche chicca fitness. Le watch face sono molto belle su entrambi i dispositivi. Per Motorola è una conferma perché già quelle del primo Moto 360 erano davvero belle. Huawei invece ci ha stupiti perché ha portato delle watch face veramente veramente di qualità. Il display è molto risoluto e quindi la watch face si si vede bene. Quindi non c'è alla fine il bisogno di scaricare watch face alternative perché quelle che vengono fornite già con l'orologio sono di qualità. Ce ne sono poi di ogni tipo. Quelle un po' più semplici, minimali se vogliamo. Quelle che comunque ci mostrano anche un po' di... hanno una qualche parte di digitale, non solo le lancette. E poi ci sono, come avete visto prima, queste qui un po' più elaborate. La stessa cosa sul Motorola dove non sono presenti comunque watch face di questo tipo che fanno il verso orologi classici, ma sono tutte quante watch face futuristiche che alla fine richiamano un po' l'anima differente di questi due orologi. Il Huawei Watch è senza dubbi più elegante e sta benissimo con una giacca, con un abito elegante e si addice perfettamente a occasioni di un certo tipo. Il Moto 360 invece è un po' più semplice, un po' più minimale, elegante anche questo, però non nel suo... nella sua cassa argentato, nelle sue watch face sgargianti, ma nella sua semplicità. Sono due tipi diversi di eleganza, alla fine. A ognuno il suo. Prezzi 399€ per questa versione di Huawei Watch e circa 314€ per questa versione di Moto 360. Stiamo parlando dei prezzi presenti in questo momento su Amazon. Direi che ho detto veramente tutto. Un saluto da Jacopo per Spazio Tech.